Sì, oggi vi presento e vi racconto Go & Fun, che è il primo green energy drink naturale che nasce dalla casa Erba Vita. Erba Vita da oltre 30 anni produce integratori alimentari e fitoterapici ed ha un'ampia cultura in questo mercato. Abbiamo infatti un ufficio di ricerca e sviluppo che da anni porta sul mercato nuovi prodotti. E Go & Fun è proprio un nuovissimo prodotto di Erba Vita diverso e alternativo da tutti i prodotti che sono stati fatti non solo nel mondo Erba Vita ma anche nel mondo del drink ed in particolare nel mondo degli energy drink. Perché Go & Fun oltre ad essere il green energy drink verde non solo perché è verde la lattina ma perché si rifà una filosofia green e quindi ha tutto quello che ci può far venire in mente un mondo ecocompatibile, ecosostenibile. E quello appunto che green richiama alla nostra mente è un energy drink che dà energia naturale, la vera alternativa agli energy drink con una caratteristica, buono da bere. Infatti chi non l'ha ancora provato non sa di cosa sto parlando ma chi assaggia per la prima volta Go & Fun ne rimane sorpreso e affascinato. Perché il gusto è fresco? È estremamente appetibile ma soprattutto oltre a questo particolare del gusto Go & Fun dà una carica di energia naturale perché infatti il prodotto è a base di 5 estratti naturali e un antiossidante. Abbiamo all'interno ginseng, guaranà, mate, rodiola e tè verde. Abbiamo una carica di energia che riprende e stimola le potenzialità che sono già nel nostro organismo. In che modo lo fa? In un modo diverso dagli altri, in particolare con l'attitudine di stimolare la parte fan di divertimento. Quindi Go & Fun non ci metterà mai a confronto con tutto ciò che è il nostro limite o l'estremo o la capacità di andare oltre. No, Go & Fun ci farà stare bene con i piedi saldi a terra, ci farà divertire e ci energizzerà in modo naturale.